Prevenzione resta la parola d'ordine. Dal prossimo lunedì saranno infatti attivate anche nei presidi ospedalieri e rettini nuove misure precauzionali per contenere il coronavirus. L'ASLA fa infatti sapere che dal 3 marzo i prelievi ematici che venivano effettuati con accesso diretto al punto prelievi dell'ospedale San Donato dovranno essere prenotati, questo al fine di ridurre l'affollamento in sala d'attesa e scaglionare così gli eccessi. Inoltre in relazione alla continuità assistenziale, l'ex guardia medica, l'ASLA ha comunicato che l'accesso agli ambulatori presenti nel territorio aziendale non sarà più diretto ma mediato dalla telefonata al centralino della continuità assistenziale di riferimento territoriale per Arezzo e 0575 303730, questo per evitare il sovraffollamento nella sala d'attesa e per permettere al medico presente nella sede di effettuare la valutazione del singolo caso con triaggio telefonico. Per quanto riguarda infine gli ospedali, per favorire la massima sicurezza dei visitatori e dei pazienti, gli accessi saranno presidiati dal personale sanitario che inviterà chi entra a prendere tutte le precauzioni utili per prevenire qualunque infezione. Al termine dell'emergenza saranno ripristinate le consuete modalità organizzative.